Al Gesualdo è la volta di Karima con la sua stupenda band e con un ospite davvero d'eccezione, il clarinettista Nico Gori. Karima arriva da noi con la nuova rivisitazione del progetto, interamente dedicato ai grandi brani di Burt Bacharach, con la quale la cantante italiana si è spesso esibita e che per lei ha scritto diversi brani. Ospitiamo con grande piacere questa cantautrice di grandissimo talento, che è capace di fondere sonorità pop e jazz. Grazie